Per Monteano che entra in area col destro, chiude col sinistro, Jung di là, tocca ma non basta, è 1-0 Fiorentina il quarto, gol in campionato del centravanti rumeno, trovato da Bianco la solo di Alessandro Bianco, una grande partita la sua, Monteano segna il primo gol della partita, a fare sportellate con Kerkez, alla meglio fisicamente, poi batte Jung dell'inuscita, 1-0 Fiorentina, ancora la viola, con Bianco altra palla al centro, però questa volta Jung dell'assenza problema, Fiorentina che poi con Neri, che serve Spalluto all'occasionissima per andare sul 3-1, la posizione regolare, schiaccia troppo il destro, Spalluto, si rimane 2-1, 2-1 che però cambia, quindi il tocco di Spalluto per Monteano che con il sinistro in croce, batte Jung dell'altra terza volta e fa 3-1 Fiorentina, quinto gol in campionato per il numero 9, Fiorentina che dopo il pareggio dei Livali è sbandato per qualche minuto e poi di forza ha ribaltato la partita, la gioia di di Marcello Quinto, doppio vantaggio viola.